In questo video, dove ti parlo dell'operazione della settimana, quella rubrica che voglio portare avanti, come ho detto la settimana scorsa, torno a parlarti di un concetto fondamentale, ossia quello della psicologia comportamentale sui mercati e di come l'unica cosa che realmente conta e la quale realmente devi pensare e dove devi focalizzare la tua attenzione è quella, capire i comportamenti dei partecipanti al mercato, ma ancora di più, capire i comportamenti di quella parte di partecipanti al mercato che puoi battere sistematicamente, ossia quei partecipanti poco preparati, poco formati che operano seguendo le loro emozioni e quindi più che altro inseguono i movimenti che faranno le scelte sbagliate e che ti regaleranno soldi. Se non sei convinto di questo, perché il guru di turno ti ha raccontato che devi andare a interpretare i grafici, usare gli strumentini, fare le linee, guardare quelle robe colorate, ti faccio sentire cosa pensa questa persona. Ecco, come funziona la variazione del prezzo? È una roba più legata alla psicologia, i prezzi sono fatti dal cervello delle persone. Questo è un estratto di un video che ho visto per caso l'altro giorno, molto carino. Questa persona si chiama Giordano Martinelli. Chi è Giordano Martinelli, molto brevemente, è uno dei più importanti gestori italiani che ha lavorato per 30 anni nel settore del risparmio gestito per una delle compagnie delle società di gestione del risparmio più importanti d'Italia e che poi, negli ultimi anni, ha fondato la sua società di gestione del risparmio che si chiama Comea e che quindi è un professionista più che competente, la cui opinione è sicuramente molto, molto, molto più pesante dei vari guru che può trovare su YouTube e anche della mia. Ma il fatto che lui vada a definire la creazione del prezzo semplicemente come conseguenza delle scelte, della psicologia comportamentale dei partecipanti al mercato, per me non è una novità, perché è proprio il mantra sulla quale ho fondato la mia operatività ed è il mantra che mi ha portato ad operare nel mercato small cap perché è un mercato totalmente, totalmente guidato dalla psicologia di chi opera in questo mercato che è fatta per i partecipanti in questo mercato, sono per la stragrande maggioranza operatori casuali che rincorrono potenziali movimenti e per la piccola parte restante di professionisti che sono lì esattamente per mettersi a creare il mercato, cioè a fare da controparte a quelle persone che andranno a regalare i soldi. Quindi voglio parlare di due aspetti, due aspetti che hanno contraddistinto la mia settimana fino ad ora è ancora presto, siamo a metà settimana ma già ci sono state due situazioni piuttosto interessanti e voglio partire dalla situazione legata al conflitto che è nato l'ennesimo tra Israele e Palestina, Hamas insomma quello che avrei sentito. Ovviamente un conflitto del genere va a portare subito un'attenzione verso quello che è il prezzo del petrolio dell'energia in generale perché come sapete Israele è in una posizione geografica che è assolutamente rilevante per quanto riguarda appunto i principali produttori di petrolio al mondo di conseguenza una possibile escalation del conflitto che per ora è semplicemente semplicemente tra molte virgolette purtroppo tra Israele e la Palestina, la Siccia di Gaza insomma quello che tutti sapete benissimo ahimè potrebbe portare, potrebbe avere delle ripercussioni importanti rispetto appunto al mercato del petrolio in primis, dell'energia poi. Quello che però interessa parlare a me perché voglio dirti oggi perché voglio parlare di cose quanto più pratiche possibili è quello che ho visto ad esempio lunedì sul mercato il mercato azionario americano in realtà rispetto a due azioni che sono HUSA e INDO che si stavano muovendo in gap. Ora passiamo un attimino qui nel desktop perché voglio farti vedere cosa ho fatto quel giorno sostanzialmente ecco qui deciso di comprare sia HUSA che INDO che si stavano muovendo con un movimento che non era importantissimo, non era importantissimo in quel momento ma che sarebbe potuto diventarlo da un secondo all'altro perché? Perché HUSA e INDO erano due azioni che nel momento in cui c'è stato il conflitto tra Ucraina e Russia e voi vi ricorderete tutte le implicazioni che ci sono state dal punto di vista energetico che ci sono tuttora dal punto di vista energetico dopo quel conflitto hanno avuto un movimento impressionante. Quello che ho fatto io qui è cercare di anticipare e sfruttare la possibile psicologia di massa di andare a comprare queste azioni e portarla ad avere un movimento enorme come l'hanno avuto in passato. Ora non è successo lunedì, ho avuto una piccolissima perdita a Corsiato ho chiuso proprio a brecchino in a zero. I INDO ho avuto una perdita di 177 dollari, ma amen, non è quello il problema. Ma mi sono messo nelle condizioni di poter anticipare perché a volte bisogna fare questo bisogna essere un po' più aggressivo e anticipare la Russia del movimento per poter avere un potenziale rendimento enorme. Esattamente quello che ho fatto è stato quello, cercare di sfruttare la psicologia di chi so che potenzialmente sarebbe potuto andare a entrare cercando di nuovo una corsa su queste azioni ed io mi ero posizionato in modo preventivo, ho cercato di sfruttare quel potenziale volume che sarebbe potuto entrare. Ora questa era un'implicazione, l'altra invece era su un'azione PRZO che è un'azione invece quella di cui parliamo oggi che sostanzialmente si sta muovendo da diversi giorni con un movimento abbastanza importante più o meno dalla chiusura del 5 ottobre a 65 centesimi arrivata a un massimo in pre-market, anzi in after hours di lunedì di 3 dollari e 50 configurando un movimento più o meno del 450 per cento a spanne movimento molto 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 importante. PRZO cosa fa? Chi è? È un'azienda che si occupa di droni, di sviluppo di droni è un'azienda israeliana, quindi vedi come purtroppo il conflitto che c'è che è in corso in questi giorni è assolutamente il tema portante di questo movimento quindi azienda israeliana che produce droni che rilasciano la notizia, la notizia di un organo regolatore australiano che approva il primo volo di un drone commerciale in una zona popolata utilizzando appunto la tecnologia di Paraziro che è l'azienda di cui parliamo PRZO questa notizia cosa causa? causa un movimento che inizialmente è stato interessante ma che è diventato assolutamente significativo il giorno dopo, ossia il 9 ottobre con l'azione che inizia a spingere ancora, aumenta il range, spande il range inizia a avere un movimento del, come ho detto, del più 400% 450% con 173 milioni di volume possiamo vederlo tranquillamente anche in intraday te lo metto qui ecco qui il movimento di cui parlo, ok? vedi che l'azione praticamente parte in realtà più in basso da 64 centesimi più o meno fino a toccare un massimo circa di 3 dollari e 50 questo è il movimento esteso ora, quello che interessa a me e che mi ha portato a fare l'operazione che vedremo è quello che sta succedendo da un punto di vista psicologico ossia, scoppia la guerra perfetto tutti vedono questo movimento di PRZO perfetto da cosa lo vedo che tutti lo stanno guardando? dal volume che è entrato ripeto, un volume enorme perché parliamo di il 9 ottobre anzi di 170 milioni di volumi e soprattutto parliamo tra le due giornate combinate quella del 6 e quella del 9 quindi venerdì e lunedì parliamo di circa 500 milioni di dollari scambiati su un'azione che ha una capitazione di mercato di all'incirca 8-10 milioni di dollari o poco più quindi parliamo effettivamente di una una quantità di soldi enorme, gigantesca per un'azienda che ha una capitazione di mercato veramente piccola veramente veramente piccola quindi questo movimento qui mi stava dicendo che tantissimi tantissimi si stavano iniziando a mettere tutti da una parte questo è quello che mi preme dirti in questo video ossia capire la psicologia del comportamento di chi puoi battere non pensare di poter battere istituzionali, fondi, al loro gioco ok? di poter metterti sullo strumentino a battere gli algoritmi e il trading ad alta frequenza di banche di investimento e fondi speculativi perché tu sei furbo e guardi i numerini sulla piattaformina colorata quella roba lì è impossibile è impossibile sarai tutto il giorno cercando di rincorrere informazioni che ti vengono dal grafico e qualche volta andrà bene molto spesso andrà male sarai lì a giochicchiare questa roba qui invece è assolutamente preventivabile come? semplicemente per esempio applicando una dinamica che io spiego in modo estensivo all'interno per esempio del mio percorso come? questi movimenti tendono ad a finire statisticamente qui torniamo ai dati che è l'unica cosa che deve muovere il tuo trading dopo tre giorni dal movimento più o meno al terzo giorno del movimento ma soprattutto tendono a finire quando ci sono due caratteristiche la prima un'espansione del volume e c'è stato perché abbiamo scambiato lunedì 120 milioni e il giorno dopo anzi il lunedì 170 milioni quindi il volume è cresciuto con il volume è cresciuto l'attenzione è cresciuta la domanda sono aumentati tutti quelli che volevano andare a comprarla quindi si stavano mettendo tutti da una parte perfetto il range è aumentato come lo vedi il range proprio del movimento è aumentato in modo significativo quindi ancora di più vuol dire che questa attenzione questo volume questa domanda stava entrando in modo importante perfetto quando io so quando io so che tutti idealmente si stanno mettendo dalla stessa parte del movimento ossia questa long che vedi io ho la mia chance invece di fare esattamente l'opposto come? aspettando una semplice conferma ed è esattamente quello che per esempio dicevo qui ieri ok PRZO oggi è nel day 3 quindi nel terzo giorno di movimento di un bel movimento esteso con ieri una bella espansione di range e volumi ora quello che mi interessava a me era prima di tutto trovare Logite che al momento non avevo quindi azioni da vendere l'ho scoperto poi l'ho trovate ma la mia idea è uno short su una conferma per il momento devo attendere questo cosa significa? cos'è questa conferma? questa conferma per me andiamo avanti più o meno a guardare poi ti faccio vedere l'operazione ma andiamo avanti a guardare cosa succede poi il giorno dopo il giorno che interessa a me io vedo che abbiamo il top di quel movimento del giorno prima quindi che era sostanzialmente qui sui 3.50 in questo momento qui quando inizio a guardare l'azione più o meno appunto alle 11 di mattina cosa che interessa a me è non vedere non vedere l'unica propria informazione per darmi ragione è non vedere il prezzo sopra 3.46 barra 3.50 questo perché? perché in questa parte di movimento qui tutto questo movimento a rialzo come detto che ha fatto entrare attenzione ha fatto entrare volumi liquidità tutti si sono messi lì a comprarla aspettandosi in realtà che il giorno dopo sia il 10 giorno della mia operazione il prezzo avrebbe potuto aprire in gap ancora ulteriormente rompere 3.50 e magari arrivare a 4 5 6 dollari questo è quello che volevano vedere tutti ma nel caso in cui questo non fosse successo io avevo la mia conferma avevo la mia operazione e sapevo che tantissimi di tutti quelli che stavano comprando cercando nel giorno successivo poi quello che succederà non mi interessa ma quello che cercavano nel giorno successivo era una continuazione non vedendola sarebbero potuti andare a far cosa a chiudere le loro operazioni in acquisto per chiudere le loro operazioni in acquisto sarebbero potuti fare short anzi sarebbero potuti fare sell in realtà io short che vendo allo scoperto loro sell perché comprano e poi vendono quindi di conseguenza quando il prezzo fa questo diventa un problema per tutti quelli che hanno comprato io cosa ho fatto te lo faccio vedere subito non ho fatto altro che eccolo qui lo vedi qui molto semplicemente PRZO questo è tutto quello che scrivevo in diretta in trading room PRZO deve solamente rimanere sotto i 3,50 per me una volta che rimane sotto i 3,50 per me è uno short perché tutti quelli che provavano cercavano speravano di vedere una continuazione inizieranno a essere nervosi quindi a questo punto vorrei cercare di avere una spinta tra i 3 e i 3,50 più o meno per vendere se dovesse andare velocemente red ossia sotto i 3 dollari o comunque sotto la chiusura del giorno precedente allora quel livello i 3 dollari diventerebbe un nuovo livello di rischio in sostanza cosa sto dicendo sto dicendo che io non vorrei far altro qui siamo qui in realtà all'epoca siamo qui io non vorrei far altro che poter shortare una spinta del prezzo verso questo range senza vederla poi però andare sopra i 3,50 nel momento in cui invece andasse sotto i 3 dollari io shorterei i 3 dollari ma anche tutto il range poi a scendere quindi la mia idea era short punto cioè era facile ok perché c'è un processo che mi guida al terzo giorno di movimento dopo che il giorno prima avevo provato qualche short così per prendere un pochino di dimestichezza e avevo avuto una perdita piccolissima insignificante ma avevo capito che la scena aveva ancora voglia di spingere in realtà quella piccola perdita del giorno prima anticipando un pochino lo short da processo diciamo lo short quello canonico dal mio processo mi aveva dato un'altra informazione cioè che qui c'era tanta domanda che entrava e quindi il giorno dopo sarebbe stata molto 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 probabilmente la mia occasione quindi questo è quello che scrivevo andiamo ancora a leggere cosa scrivevo e a un certo punto scrivo inizio a shortare PRZO qui esattamente qui inizio a shortare PRZO te lo faccio vedere scusami non c'è il grafico inizio a shortare PRZO esattamente qui una volta che inizio a shortarla PRZO inizia a darmi ragione molto velocemente inizio a shortarla alle 13 e 12 alle 13 e un quarto inizia a darmi ragione ossia PRZO è rossa è sotto la chiusura di ieri è debole ottimo primo cover 2.35 in 20 minuti avevo già la mia prima presa di profitto perché succede questo dopo il mio primo short ok inizia subito a venire giù e io qui inizio a prendere la mia prima presa di profitto da lì in poi è sostanzialmente tutta una gestione fino ad arrivare praticamente alla chiusura della giornata dell'operazione con praticamente un 20 ti faccio vedere un 20% è un po' piccolino ma un 20% di ritorno sul capitale investito in questo short nell'arco di un paio d'ore più o meno per poi andare a chiudere tutta l'operazione come puoi vedere qui te la metto qui al grafico eccola qui completa questa è l'operazione completa su PRZO con tutti gli short che come vedi sono stati assolutamente lineari ho shortato praticamente appena ho provato a spingere tornato sotto i 3 dollari come avevo detto ho continuato ad essere aggressivo man mano che andava a red cioè sotto i 2,70 alla chiusura del giorno precedente tutti quelli che erano sostanzialmente long dal giorno prima in quel momento lì avrebbero iniziato ad avere un pelino di paura dopodiché cosa ho fatto sono andato a incrementare un pochino ho preso profitto incremento un pochino su una spinta provo a rincrementare un pochino qui e poi prendo profitto e questo è semplicemente quello che intendo quando dico che la cosa più importante sui mercati sulla quale concentrarsi è la psicologia dei comportamenti di chi sai che farà la scelta sbagliata punto in modo che tu saprai esattamente come si comporteranno e potrai metterti dall'altra parte ricapitoliamo azione che viene su perché l'azione israeliana fa droni bla 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 inizia a spingere un primo giorno spingi un secondo giorno aumentando il range aumentando i volumi aumentando l'attenzione quindi so che tantissimi si stanno ammucchiando long in quell'azione perché vogliono addirittura che il giorno dopo cioè ieri l'azione in qualche modo potesse andare a aprire in gappa ancora e spingere verso 5 6 7 8 10 dollari chissà dove questa è la mia idea nel momento in cui io ieri il giorno in cui voglio entrare il terzo giorno di movimento questa operazione era semplice quanto contare fino a 1 2 3 in sostanza ragazzi dopodiché quando vedo il giorno della mia operazione che il prezzo invece non riesce a spingere oltre il massimo di after hours perché il 3,50 l'ha fatto in after hours non riesce a spingere oltre quel massimo ma anzi fa esattamente l'opposto di quello che tutti quelli che stavano comprando avrebbero voluto vedere e che invece avrei voluto vedere io sì ho visto il prezzo debole non riuscire a fare l'unica cosa che le chiedevo sia rompere i 3,50 perfetto e iniziò a pianificare il mio short inizialmente era uno short su una spinta verso i 3,50 ma come hai visto nel caso in cui il prezzo non fosse riuscito a spingere verso i 3,50 avevo il piano alternativo ossia pianificare sulla debolezza del prezzo ed è esattamente quello che ho fatto shortato ho preso profitto ho provato a rischortare non mi ha preso tutta la size e riprendo profitto su una discesa del prezzo che è stata causata da chi? dai venditori naturali ossia tutti i compratori dei giorni precedenti che vedendo l'azione non continuare a spingere quindi non dargli in sostanza quello che loro volevano sia una continuazione del movimento chissà verso dove sono costretti in buona parte a chiudere l'operazione facendo sell perché hanno comprato fanno sell quindi mettono offerta sul mercato che è quella che a me ha portato profitto ma la cosa più importante di tutti come diceva anche Martinelli è la psicologia dei comportamenti dei partecipanti ai mercati se tu vuoi battere un algoritmo che è programmato per drenare liquidità continuamente dal forex dagli indici dalle materie prime e quant'altro pensavo di essere furbo con i tuoi strumentini per capire cosa sta facendo farai trading in modo totalmente casuale se tu invece capisci la psicologia e come si comporta e cosa vuole vedere e che scelte sta facendo chi è assolutamente più impreparato di te infinitamente meno preparato di te puoi batterlo in modo semplicissimo aspettando che si vada ad incastrare con le proprie mani e mettendoli dall'altra parte perché sai che dovrà fare a un certo punto sarà obbligato a fare una scelta che ti porterà in profitto nel suo caso chiudere l'operazione in perdita mentre tu invece sei dal lato giusto in questo caso short e potrai andare a capitalizzare la fine di un movimento comunque un meno 30% abbondante in un movimento del genere e fare un più 20% e passa 23% sul capitale investito in qualche ora che per me è tantissima roba